Ci troviamo qui in piazza Andrea Costa che dopo un primo stralcio di lavori ci sono stati degli importanti ritrovamenti. Si tratta di un edificio porticato che mette risalto delle colonne che corrispondono a quelle che invece sono diciamo attualmente rigono proprio prospicenti alla pizzeria qui che si affaccia su piazza Andrea Costa e rappresentano un edificio importante che viene chiuso da due mura. Queste appartengono ad un tempo sessettecentesco quindi sicuramente più moderno rispetto a quello che era il tempo della romanità. Nello stesso tempo invece alle mie spalle c'è stato un ritrovamento di mura romane che appartengono a un grande edificio. Naturalmente queste sono tutte indagini che sono in corso e che stiamo cercando di approfondire con certezza queste sono romane. Stiamo cercando di capire invece se continuano nella parte centrale dove sono state trovate delle fosse granaie proprio dove le persone conservavano a suo tempo dei beni alimentari per preservarli al meglio. Tra l'altro è stato ritrovato anche un pozzo che non è mappato da nessuna parte, nessuna carta storica della città, un pozzo più recente quindi medioevale con un'imboccatura dritta laddove c'era un riapprovvigionamento dell'acqua serviente agli abitanti di questo posto. All'interno della parte centrale c'è stata un'altra importante scoperta che appartiene a tre cadaveri, due di bambini quindi proprio di neonati e di un adulto quindi c'è proprio un cranio molto evidente quasi a farci pensare che questo fosse diventato in tempo medievale anche un luogo di sepoltura. All'interno degli scavi sono stati ritrovati anche dei reperti che verranno poi messi probabilmente a disposizione e sono delle monettine, dei pezzi di ceramica, delle anfore, dei pezzi anche di mosaico che quindi appartengono anche delle pavimentazioni. Con la soprintendenza abbiamo già avuto dialoghi per riuscire ad aprire degli open day il sabato pomeriggio magari in più fasce orarie per garantire una informazione alla città e condividere con tutti voi quello che è stato il ritrovamento. Queste date naturalmente non appena avremo la conferma ve le divulgheremo e sarete tutti invitati. Un altro episodio che mostra come Fano sia una città storicamente ricca e le cui stratificazioni escono ad ogni cantiere. Stiamo già lavorando per fare un rilievo di tutti questi ritrovamenti. Una parte in realtà li avevamo già indicati nel nostro sistema informatico comunale e quindi sapevamo già che in alcuni punti c'erano dei ritrovamenti, ne sono emersi di nuovi a seguito dei lavori. La cosa importante è che il Comune sta monitorando e mappando tutto in modo tale che anche per il futuro ci sia un punto di partenza, di mappatura. Questo fa seguito a una serie di iniziative virtuose. Ringrazio quindi tutto il personale dell'Ufficio Cultura e dell'Ufficio SIC, del sistema informatico comunale, che fa sì che questa storia e questi ritrovamenti non vadano persi ma restino come indicazione per la città, per il futuro e per avere una visione più completa di quella che era ed è ed sarà Fano.